Questo che andiamo a votare è un emendamento molto importante, è la base per la conclusione di un disegno di legge che già da alcuni mesi è all'esame in Commissione Affari Costituzionali. Abbiamo audito diversi soggetti e mi sento veramente di affiancarmi alla senatrice Gianmanco perché questo disegno di legge deve essere portato a conclusione. Con l'istituzione di questo fondo sicuramente si pongono delle basi importanti. Ripercorriamo un attimo il percorso di questo emendamento che è partito appunto dalla Commissione Affari Costituzionali a proposta lega, sottoscritto dalla sottoscritta e condiviso e firmato dagli altri componenti della Commissione e delle altre forze politiche. Quindi c'è stata una piena condivisione su questo emendamento che poi nel suo percorso ha visto dei perfezionamenti e degli aggiustamenti. Per finire assolutamente con un parere favorevole nelle commissioni riunite che lo hanno esaminato. Quindi io auspico che questo emendamento sia votato a maggioranza e che veramente il disegno di legge possa essere portato a conclusione. Siamo in attesa del parere del MEF che automaticamente ci obbliga ad aspettare ulteriore tempo per finire l'esame di questo disegno di legge che più che mai si rende necessario. Necessario anche perché in questi giorni ho ricevuto diverse telefonate da diversi amministratori che chiedono quando potrà essere attuato perché loro sono già pronti nei loro comuni ad attuare questo provvedimento, questo importante disegno di legge. Quindi questo emendamento è sicuramente una base importante dalla quale io auspico la conclusione dell'esame del disegno di legge sulla videosorveglianza. Grazie Presidente.